Devo dire che la squadra ha approcciato bene alla gara, venivamo da quattro settimane, tre di ritiro e una importante, abbiamo fatto qualche amichevole, quindi mi è piaciuto l'approccio della partita contro una squadra veramente ostica che si è messa dietro, compatta e cercava di chiudere tutte le linee di passaggio, però ovviamente abbiamo avuto una marea di occasioni, abbiamo sempre dominato il gioco, abbiamo avuto solo qualche palla per nostro errore, hanno avuto due situazioni loro, però per il resto credo che non ci sia stata partita, abbiamo fatto tutto noi, purtroppo lì davanti dobbiamo essere molto ma molto più cinici. Ha dei margini impressionanti di miglioramento, questo sicuro, però sono orgoglioso perché comunque hanno interiorizzato quelli che sono i principi sviluppati in ritiro, quindi sono contento di questo, la prova è stata buona, ovviamente abbiamo ancora da smaltire il carico della preparazione, però su questo sono molto fiducioso, soprattutto anche dalla parte tattica. Siamo stati pronti oggi, lo saremo sicuramente nella prima di campionato, ovviamente noi non facciamo progetti a lungo termine, facciamo progetti proprio nell'immediato perché la partita più importante è sempre quella più difficile e quella più difficile, la partita più importante è quella che viene subito dopo questa che hai disputato. Sono contentissimo, ovviamente sicuramente rifiniremo un po' qualcosina se ne avremo l'occasione, altrimenti va bene anche così.